Ben trovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura greca. L'architettura greca è sicuramente molto importante nel panorama della storia dell'architettura perché insieme all'architettura romana definirà il concetto di architettura classica. Quindi i greci saranno i primi a impostare lo stile, le regole dell'architettura classica che poi i romani completeranno. L'architettura classica sarà un sistema di riferimento nella storia e periodicamente verrà ripreso, come per esempio nel Rinascimento o anche nel periodo neoclassico, quindi in periodi successivi. L'architettura greca fonda la sua storia, la sua cultura, il suo modo di esprimersi da due civiltà dell'area greca che l'hanno preceduta. La prima è la civiltà micenea. La civiltà micenea si sviluppa nella città di Micene, che è una città che sta nel Peloponneso, quindi in questa penisola a sud della Grecia, che è quasi un'isola, nel senso che ha dei collegamenti con la terra molto piccoli. Micene è una città che si trova in un territorio impervio, arroccata in collina, come è il territorio greco del resto. Quindi questo fa sì che abbia sviluppato delle caratteristiche particolari. Sempre il modo di esprimersi di una particolare corrente artistica deriva da una serie di condizioni. In architettura spesso deriva anche dalle condizioni proprio economiche, politiche e anche orografiche. Allora Micene è una città, dicevo, impervia, che si trova in collina. Il popolo di Micene era un popolo dei guerriglieri, perché dovevano difendere la loro terra da attacchi che potevano venire da altre città vicine. Quindi anche il tipo di architettura che loro svilupperanno avrà queste caratteristiche. In particolare, qui vediamo alcune immagini della città di Micene, c'era questa grande necessità di difesa e la città, come si può vedere da una ricostruzione, sulla sinistra, dicevo, era arroccata, aveva delle mura difensive molto possenti e a livello proprio emblematico c'è la famosa Porta dei Leoni, che è la porta di accesso alla città, che nella foto che vediamo sulla destra è una foto della condizione attuale, che era una porta molto famosa e molto importante perché ci sono questi due leoni, diciamo, innalzati, a difesa proprio della città. L'obiettivo era proprio anche quello di incudere timore in chi visitava questa città o in chi arrivava in questa città. E questo è molto importante. Chiaramente questo popolo era un popolo anche molto, essendo un popolo dei guerriglieri, un popolo molto, possiamo dire, pratico. E questo fa sì che sono state realizzate una serie di costruzioni anche importanti, come la tomba di Agamè non è altre opere. L'altra civiltà invece importante che prendiamo in considerazione è la civiltà cretese. Qui la situazione è completamente diversa. Vediamo dalla mappa di come stiamo parlando di un'isola, che è l'isola di Creta, che sta al centro del Mediterraneo. Vedete, a nord c'è il Piero Monneso. Chiaramente, nel discorso che facevamo prima, anche qui le condizioni, cioè lo sviluppo di questa forma di arte dipende dal contesto. Allora Creta, al contrario di Micene, non aveva bisogno di grandi mura difensive, in quanto aveva il mare intorno. E quindi il mare permetteva di potersi difendere in modo un pochino diverso, un pochino più adeguato. Ma Creta è anche al centro del Mediterraneo, per cui era, diciamo così, frequentemente utilizzata come base per scambi commerciali. Quindi c'era una vivacità culturale notevole. E anche questo sarà importante. E altra cosa importante, che è il contesto, nel senso che Creta, essendo al centro del Mediterraneo, godeva e gode tuttora di condizioni climatiche, atmosferiche e anche di colore importanti. Qui il cielo è sempre di un blu intenso, è lo stesso il mare, e questo influenza anche l'architettura. Allora, l'opera più importante della civiltà gredese è il palazzo di Knosso, che era il palazzo centrale di questa civiltà. Era una grande costruzione, dove di fatto risiedevano moltissime persone, con una serie variegata di funzioni. Chiaramente è un'architettura molto più raffinata di quella che poteva essere quella della città di Micene, per i motivi che abbiamo detto. Da notare anche come, per esempio, le stesse colonne, i stessi edifici avevano dei colori molto vivaci, proprio perché si inserivano in un contesto con dei colori vivi, che era il contesto del mare Mediterraneo. Questa che vediamo è una ricostruzione di questa sorta di palazzo, che era di fatto una cittadella, dove anche dalla ricostruzione si possono vedere come ci sono molti elementi colorati e molta raffinatezza rispetto a Micene. Ora invece veniamo alla civiltà greca. La civiltà greca innanzitutto la possiamo dividere in tre periodi, che sono il periodo arcaico, il primo periodo dove c'è, diciamo, questo, viene, per parlare del termine, abbozzata la civiltà greca, vengono rincominciate a realizzare le prime opere con i principi dell'architettura greca, poi c'è il periodo classico, dove questi principi vengono elaborati ulteriormente e si arriva a realizzare opere sicuramente più raffinate, e poi c'è l'ultimo periodo, che è quello del periodo ellenistico, quello segnato dal governo di Alessandro Magno. I principali edifici che vengono realizzati dai greci sono sicuramente il Tempio. Il Tempio è la costruzione più famosa, abbiamo tempi famosissimi, il più famoso di tutto, ovviamente, il Partenone di Atene, ma poi ci sono i tempi di Pestum, i tempi di Agrigento e molti altri tempi che vengono realizzati. Il Tempio greco aveva delle caratteristiche importanti, la prima cosa che possiamo chiarire è che il Tempio greco, a differenza dei tempi cristiani o dei tempi dei periodi successivi, era pensato per essere utilizzato dall'esterno, cioè che cosa significa? La cella, che era proprio il cuore del Tempio all'interno, era riservata soltanto ai sacerdoti, soltanto i sacerdoti entravano lì, quindi nel caso di una funzione religiosa i partecipanti, il popolo, stavano tutti all'esterno. Questo giustifica anche il fatto di come c'è questa grande elaborazione nelle colonne, nelle drabbiazioni, nell'ordine architettonico in generale, proprio perché questa funzione era una funzione più che altro esterna. Il Pantheon a Roma ha un, diciamo così, sorprende all'interno, quando uno entra all'interno di questi edifici. I tempi di Grecia era il contrario. Allora, nel periodo arcaico, vedete, e qui ci sono delle immagini del Tempo di Pestum, che sta nell'Italia meridionale, e vedete l'impostazione è la stessa, però se ci soffermiamo un attimo sulle colonne vediamo come queste sono molto più tozze, molto più rozze, diciamo così, meno raffinate, ecco. E questo è il tipico del periodo arcaico. Nel periodo classico, invece, possiamo prendere come esempio proprio l'acropoli di Atene. Nell'acropoli di Atene, qui sono indicati alcuni degli edifici più importanti, di cui il più famoso di tutti è il Partenone. Ecco, si può vedere come, tra le tante particolarità, quella che balza più agli occhi è di come queste colonne del Partenone sono sicuramente molto più eleganti, molto più slanciate, meno appunto tozze, di quelle dei templi del periodo arcaico. Altri edifici importanti sono i propilei, che era l'edificio di accesso all'acropoli, il tempietto di Atene Aniche, che infatti è un tempio più piccolo, un ordine architettonico differente, lo vedremo subito dopo, e la loggetta delle Cariatidi, dove alle colonne sono sostituite queste statue, che sono le statue appunto delle Cariatidi. Altro edificio importante dei Greci è il teatro. Qui vediamo alcune rappresentazioni. Il teatro più famoso sicuramente è il teatro di Epitauro. I teatri per i Greci erano dei teatri all'aperto, che avevano questa caratteristica di essere realizzati in luoghi dove l'effetto acustico che si otteneva dalla scena e dalla platea era un effetto molto studiato e molto preciso. Quindi spesso i luoghi venivano scelti anche in funzione di questo. Molti di questi teatri non avevano nemmeno la scena, perché venivano costruiti in luoghi particolarmente belli la cui scena, il cui sfondo era la natura stessa. Caratteristica dell'architettura greca è l'utilizzo dell'ordine architettonico. Allora, che cos'è un ordine architettonico? Allora, l'ordine architettonico è un insieme di elementi che normalmente sono la base, la colonna, il capitello e la trabbiazione. Si parla di ordini architettonici classici quando si parla di dorico, ionico e corinzio che vediamo qui rappresentati. Come si può ben vedere, anche questa successione dorico, ionico e corinzio porta ad un tipo di ordine sempre più elegante. Allora, il dorico è sicuramente l'ordine più tozzo, più possente che veniva usato appunto negli edifici particolarmente grandi come il partenone. Poi c'è lo ionico che è sicuramente più slanciato e veniva usato per i tempi più piccoli il tempietto di Atenaniche. Poi c'è il corinzio che è stato sviluppato soprattutto ancora più elegante soprattutto nel periodo ellenistico. Ecco, vediamo qui le caratteristiche dei capitelli come nel dorico il capitello è molto semplice c'è un abbaco e un echino che è fatto un semicono, un tronco di cono e un parallelepipedo. Nello ionico ci sono le volute queste due sorte di riccioli e nel corinzio c'è questa elaborazione con delle foglie di acanto spesso è proprio il capitello che ci permette di individuare con certezza il tipo di ordine di cui ci troviamo di fronte. Chiaramente però oltre al capitello ci sono anche altre caratteristiche importanti tra cui la base, la trabbiazione e altro. Bene, diciamo qualche parola anche sulla città greca. Allora la città greca le città greche in generale nel disegno anche qui il disegno di una città da che cosa dipende? Spesso dalle condizioni politiche del tempo se una città ha bisogno di essere difesa o meno ma spesso anche dalle conduzioni orografiche. Allora la Grecia è un territorio molto impervio quindi molto montuoso per cui realizzare delle città regolari era un pochino difficile. Allora quindi molte delle città non hanno un disegno ben stabilito possiamo però dire che il disegno prestabilito è questo la città era divisa normalmente in tre zone la cora che era la parte alta dove c'erano i templi scusate la cora era la parte bassa dove c'era la piazza che possiamo vedere in queste immagini dove si svolgeva la maggior parte della vita dei greci molti grazie anche alle condizioni diciamo così meteorologiche favorevoli l'attività dei greci si svolgeva quasi tutto all'aperto per cui spesso uscivano dalle loro case soprattutto gli uomini la mattina e tornavano la sera poi c'è l'acropoli che invece è la parte alta dove ci sono i templi appunto famosa l'acropoli di Atene e poi dopo c'è la zona delle abitazioni che si l'asti è detta che è diciamo una zona diciamo periferica considerate che a noi oggi sono arrivati i resti di di acropoli i resti di agorà ma non delle abitazioni perché erano considerate proprio gli edifici meno importanti quindi spesso erano fatti anche con materiali deperibili e della città greca a livello proprio urbanistico quello che possiamo sottolineare è quello che viene realizzato nell'ultimo periodo nel periodo ellenistico che è la città Ippodamea che è stata appunto realizzata disegnata da Ippodamo dove viene mantenuto questo schema delle della suddivisione in tre parti ma c'è questo disegno fortemente organizzato e fortemente ortogonale chiaramente esempi di questa città li troviamo soltanto nelle zone un pochino pianeggianti quindi in zone vicino al mare dove diciamo così finivano le montagne c'era modo di avere un terreno pianeggiante per poter organizzare la città in questo modo bene vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione